Dopo le dimissioni del presidente della sua ACO, Salvatore Bocchetti, si è aperto il totonomine per chi sarà designato suo successore. Spetterà al sindaco di Comiso Filippo Spataro procedere alla nuova nomina. Il favorito sembrerebbe essere Silvio Meli, comisano come dimissionario Bocchetti, con qualche esperienza politica, vista che è stato candidato nel 2003 al sindaco della città, appoggiato da una lista civica. Tra gli altri nomi che circolano quello di Gianni Scapellato, personaggio di grande esperienza nel settore aeroportuale, già direttore degli aeroporti di Malpensa e Rimini, Scapellato inoltre ha seguito per la città casmenea l'iter di progettazione e di realizzazione del Piola Torre. La sua candidatura troverebbe l'appoggio del deputato ebleo Pippo Di Giacomo, che lo riterrebbe una figura chiave di cui lo scalo comisano avrebbe bisogno in questo momento. Sembra invece che la nomina di Giovanni Occhipinti, leader di Insieme e presidente del distretto turistico degli Iblei, sarebbe pure discussione. Lo stesso Occhipinti ha infatti dichiarato nei giorni scorsi di non essere interessato all'incarico. Il mistero dovrebbe essere svelato comunque nei prossimi giorni. Si procederà intanto con la convocazione dell'Assemblea dei Socii, per discutere della situazione successivamente con la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'elezione del vicepresidente. Sono tante le sfide che si aprono per l'aeroporto ebleo nei prossimi mesi. Dalla questione delle rotte sociali a quella della destinazione di fondi ex insieme. Si auspoga quindi che la nomina del nuovo presidente avvenga in tempi brevi. Grazie.